ciao a tutti e benvenuti a questa pil di ruling oggi vi porto come da titolo scroxa il grande evasore dalle carceri allora questa carta qua l'abbiamo consigliata per un bel po di side perché molto interessante può essere tra piccolette una staples decide ovviamente per vari formati anche tra l'altro anche commander multiplayer può essere un ottimo pezzo di stax dice solo costo 204 i permanenti non possono entrare in campo del cimitero e il giocatore non possono castare ma ci è non creatura del cimitero o l'esilio quindi perché croc sa riesce comunque evadere quindi le carte con escape che sono creature perché dal cimitero la possiamo castare perché è una creatura poi però la parte sopra non ci blocca in realtà è un potevo dire ma come in che senso isma c'è comunque lo stai castando cimitero ed entra nel cimitero no perché il passaggio è croc sa lo casti dal cimitero pagando che il costo d'escape fai il costo 4 esili le carte bla bla dopodiché però dal cimitero si sposta nella pila e quindi entra in campo dalla pila e quindi il primo pezzo non dell'abilità del solis jailer quello che non fa entrare permette il cimitero non lo riesce a vedere perché appunto oramai è passato in pila e quindi non lo vede più e l'altra parte invece non agiva a prescindere perché lui appunto è una creature quindi occhio giocate questa carta non sai data la contro i match up in cui l'altro si basa tantissimo sulle creature con escape detto questo noi ci vediamo al video serale o altri video e ciao ciao fate i bravi ciao